Non è vero che i soldi fanno venire le idee, mi dispiace, è il contrario, sono le idee che fanno venire i soldi. Quando c'hai santi soldi hai molte meno idee, quando hai pochi soldi ti vengono di quelle idee pazzesche. Sarà un caso che la tecnologia digitale è tutta nata dentro dei garage, piccoli garage, microscopici garage in giro per l'America. Bill Gates ce n'aveva uno, quello della Apple ce n'aveva un altro, tutti avevano un garaggino, è nato tutto lì. Sì, miliardari ma voilà, raccomandati ma da chi? Fortuna, Steve Jobs fortunato, fortunato di essere stato abbandonato da bambino, adottato da una famiglia che arrivava fino al 27 del mese, fortuna, anche quella è fortuna. Non è forse invece qualche cosa che nasce dalla voglia di rivincita contro un mondo che non ti ha regalato niente e che ti ha fatto capire che tutto quello che avrai non te lo devi conquistare.